Perde il Biceglie di Pochesi con un gol nella ripresa che vale i tre punti per la Viterbese di Lopez. Il 3-5-2 degli ospiti con Manicone Gatto in avanti all'assenza del difensore Ristov impegnato con la sua nazionale si oppone al 3-4-1-2 scelto invece da Lopez con culine sviderosche a dettari tempi nella fase offensiva. Ritmi blandi nei primi minuti anche se un errore di Piccini innesca sviderosche che a tu per tu con Casadei calcia incredibilmente a lato. Pressing alto per la Viterbese va di centro-basso per quella di Pochesi anche se non accade nulla sino al quarantesimo quando i padroni di casa hanno l'occasione giusta per il vantaggio. Da destra cross perfetto per culina che calcia ma Casadei è ottimo nell'intervento in corner. Sugli sviluppi dell'angolo un tentativo di testa di Bezziccheri che termina sopra la traversa. Cresce la Viterbese nella ripresa e dall'alba del quarto d'ora di gioco arriva il gol che deciderà poi l'incontro e Enrico abile ad accentrarsi da sinistra e da calciare preciso verso l'angolino basso dove Casadei proprio non può arrivarci. Prova ad inserire forze fresche Pochesi ma è ancora pericolosissima la Viterbese con Casadei abilissimo a superarsi su Molinaro. Il tiro di De Giorgi poi si spegne a lato. A tempo scaduto un rapido contropiede dei padroni di casa lancia il solito Molinaro a tu per tu con Casadei ma è provvidenziale l'intervento di Turi poco reattivo nella ripresa il Biceglie che dopo lo svantaggio cede le armi senza costruire particolari pericoli. Domenica prossima all'avventura sarà invece di scena l'ormai ex capolista Ternano.